Hey viewers, buonasera, meravigliosi, siamo nuovamente qui su... Dark Souls 2, esatto Siete fantastici, non qui, perché? Che c'è qui? Che c'è qui dietro? Oh, um... Oh, perché era collegato, quindi perché c'erano solo i morti, qui dietro? Oh Nooo Non so come ho fatto, non lo voglio sapere, non mi interessa Azzavegna Poverini, quasi, 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 quasi mi fanno pena, quasi Dietro la porta numero tre Abbiamo questo Sono cose stupidi che fanno quasi tenerezza, giuro Quasi Attenzione Uh, indietro la porta, uh, c'è un ricordo e... Titanite scintillante, oh ecco qual era, fai attenzione al nemico Quale l'amico? Ma lo conosco sto trucchetto? Passa, l'avete usato prima! Troppo per i coglioni Ciao 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 Fai silenzio e vai a casa Ora Si scende per di qua Eeeh, cosa troviamo di qua? A tirare il richiesto più avanti Senti, fai attenzione ad attacco Mi sa che son morto Oh Oh Oh, ah, sono, sono proprio concentrati su... Ok Oh, John Guarda quella pira Oshinbiki È così fantastica che noi non potremmo mai... Oh Oh mio Dio Ok Non me l'aspettavo questa Giorno Non credevo avrebbero fatto un attacco kamikaze subito Ma a me va bene così Suppongo Ok Eeeh In questo modo Sono morti tutti Scettolo di ferro rovente Non... Oh cazzo Ho fatto un casino Ho fatto un casino Oh merdo Ho fatto un casino Dov'è? Scettolo di ferro rovente Uno scetto di ferro incandescente Usato per attivare i macchinigeni Che trasferiscono calore alla torre nebbiosa Quando il vecchio re di ferro strappò Questa regione esausa Regno di Fenn L'impresa richiese tutte le risorse In possesso del Debole Lord Ma dopo la scoperta di questo miracolo di produzione del ferro Egli rinacque come potente sovrano Eeeh Eeeh Oh Ok Ok cosa fa questa leva Attivare trappole Immonde Arrivi Non uccidermi Ti prego Non uccidermi Eeeh 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 30 secondi per girarti Ma Manco Kong Il gorilla Che rasso ci mette così tanto per girarti Non so chi è Kong Ok non lo so Non so chi sia Kong Ma non diteglielo Ben fatto Grazie Sono molto contento che a te ti piaccia Il mio operato Brutto strozzo schifoso Potevi tirarmela la chiave Oh ho capito dove sono Qua ero cascato l'ultima volta E là c'è un sacco di roba Ok Ci andremo un'altra volta Non oggi Oh no 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 mi sono sbagliato Le chiappe Si si lo so Sapevi che starei tornato Torno sempre sei l'unica strozza che vende Gemme a Cocco Prego Baldraca Ok ci prendiamo Un altro po' di Oppure un po' di energia Ah vitalità 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 Voglio tanta vitalità Ok e ora andiamo all'atrio Perché Sembra un atrio Già 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 Perché Perché questo posto è ovviamente Un atrio Come fate a non vedere che è un atrio Io non lo so Come fate Si capisce Usare Certo Oh L'enorme spada di fuoco Avevo ragione E quindi Ok 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 no Non mi piace più di tanto Ci sono tutti i meccanismi Ok Allora Proverò Ah no Questo non lo posso prendere Ma Ah devo prendere quello Dannazione Ok Grazie per il passaggio Gentili giganti Buon provi faccia Spero non la disturbi il fatto che le sto camminando in testa No vero Ah Siete così gentili Ed ecco il dannazione Prima di scendere ulteriormente Voglio però visitare Prima questo Piccolo posto Che sembra proprio Fatto per No No Non sembra proprio affatto per me Me Oh No Ancora Tu Gesù Non dovevamo non incontrarci più Sì Sì Sei meglio te Eh Sì Sei meglio te No Sono meglio io Hehehe Hehehe Quel cazzo che mi ha dato l'arma vostra Brutti Struzzi Oh Gesù Sul serio Dai Oh bello Questo c'ha Un'enorme mazza Ferrata È sempre interessante Vederle Credevo non le fabbricassero più Dal novecento In realtà Non so in che anno Siamo Dai Sì Fuck Yeah Vedete che ho fatto bene A riprenderle Vedete che ho fatto bene A riprenderle Questi che voglio Ci ho fatto No lex Non prendere queste Quelle gemme Non servono a niente No 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 E io invece No ragazzi Che state dicendo Io vi dico che servono Perché Servono Voi Non è vero Non so che voi dicevate No prendile Perché Perché te servono Chiave Cos'è questa piccola chiave Allora aspetta Questo mi sembra di averlo usato Ma la chiave della torre No Chiave che apre la porta Della torre nebbiosa Tanto troppo fa La torre veniva usata Per produrre Scorte apparentemente Infinite di ferro Il re la usò Per creare i soldati di ferro E persino un castello di ferro Secondo le leggende Provò persino A forgiare un drago Cazzo Io la butto No no Senti Non c'ho voglia adesso Ti mettiamo a discutere con te Ciao 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 Sì 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 meglio te La butto lì Il boss è un drago Di ferro E Mi romperà il culo Sempre che io ovviamente Non faccio questo Come cazzo Ho fatto Io non lo so Non ne ho idea Però dato che siamo qui Dato che siamo morti Potrei Esattamente La chiave della torre Andiamo prima a riprendere le anime Va Dannazione Ok Le gele Sono Fei Oh Quel che cazzo Ok Andiamo prima sotto Per controllare Che cosa c'è Qui Che noi siamo Bambini Scrupolosi E vogliamo Controllare Tutto 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 Col cazzo Però Dobbiamo fare Oh bene Adesso hanno anche armi infuocate Fantastico Volete anche dargli Non lo so Gli armi di Mazinga Z Al prossimo giro Stavo anche strozzando Mannaggia Tu Non ce la farai Oh Come Ok Non so come ho fatto A prenderlo Ma l'ho preso Questo L'importanto L'importanto L'importante L'importanto L'importanto È questo Perché l'importante Nella vita È essere L'importanto Perché l'importanto È Oh cazzo Meraviglioso Oltre I Mi chiedo Se io faccio Questo E vado prima qui Che cosa trovo Gesù Potrei trovare Gesù Potrei Potrei trovare Un forzere Che contiene Anello Della Aumenta la forza Giusto Giusto È È così Ovvio Aumenta la forza Il vecchio Di ferro Era il sovrano Di una grande Era del ferro Ok Grande Eh no Eh no Eh no Alleluia Oh La chiave della torre Va usata anche Su qui Oh Non mi dire Che posso saltare Tutto quel pezzo In mondo Non mi dire Che posso saltare Tutto quel pezzo In mondo Non mi dire Che sto saltando Tutto quel pezzo In mondo Sto saltando Esattamente Tutto Oh Gesù Bene Ovviamente Eeeh Ho fatto cose Visto gente Visto altra gente E ovviamente Ho sbagliato A andare Ok Vabbè Facciamo questo Tanto non ho Ammazzato Nessun mostro Figgio adesso Salve Falò Eeeh Dove Oh Beh Oh Beh Noi non C'eravamo Già vestiti No No Vedo che non ero Già passato Di qui Dove Frasca Sono Fantasticolo Veramente Fantasticolo Mamma mia Ma Quanto È Bello Andare In giro A cavallo Su Cammello Taci Postri Dov'ai 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 Oh Oh Getino Uh Sette frammenti grandi Titaniti Wow Se non fosse Che non vi servono Più a un cazzo Eh Uh 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 Ehi 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 Lei Sir Mi serve Oh Gesù Devo andare a parlare Con quel tipo Oh Quindi non posso più Usare la leva Che bello Che bello Dimmi che ci arrivo anche da qui Dimmi che Oh Sicuramente da qui arrivo a qualche posto Ma non mi piace Non mi piace assolutamente per niente il posto Oh Fantastico Basta così Ok Per quest'oggi sono morto anche troppe volte Siamo qui da 25 minuti Quindi Bello 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 Quindi Termina questo video che piace Se è il prossimo video che piace Perché ho fatto Raxen91 Ciao a tutti bro Oh yeah